dopo tante supposizioni finalmente nel corso della puntata andata in onda oggi di uomini e donne abbiamo avuto modo di scoprire la vera identità dell'alchimista il misterioso corteggiatore di giovanna bate che ha celato il suo volto dietro la maschera di dalì l'uomo che settimana dopo settimana ha incuriosito intrigato la tronista e davide basolo avevo anche fatto un video se non avete visto ve lo lascio qui nel pallino di informazioni il corteggiatore ha le idee molto chiare su voler conquistare il cuore di giovanna così come ha dichiarato anche in una recente intervista oltre al fatto di averle detto esplicitamente in puntata che nel caso fosse la scelta il suo sarebbe sicuramente un sì visto il feeling che si è creato tra i due le belle emozioni nata nel corso della loro conoscenza e voi cosa ne pensate scrivetemelo giù nei commenti se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate like di supporto porto